Bella a tutti ragazzi, qua a TheDotterScanal e se non ci vedete siamo in un gameplay commentary HD su Halo Anniversary Ok, per iniziare ci scusiamo perché per i settaggi ancora perché dobbiamo ancora un attimo prenderci la mano Si perché con iMovie e Camtasia Studio che abbiamo scaricato non è che ci troviamo molto bene noi che eravamo dei PC, si può dire Allora, incominciamo con le risposte alle domande del giorno del precedente video Le mettiamo adesso perché non abbiamo tantissimo tempo neanche in questo video Allora, la prima è di Light and Dark 92 A me piace il calcio, ma che fa proprio un nuovo gioco Se mi propongono di fare una partita, ok, ma se no no, sì, bella Dottori Grandissimo, Light and Dark, nostro fan Ovviamente ci segue da un po' Quindi lo salutiamo anche in questo commentary Allora, la risposta di SkylineTheBest89 Risposta alla domanda del giorno Sì, ho provato FIFA 98 ROAD 2 World Cup su PC E ci ho giocato tantissimo L'unico videogioco di sport che mi sia mai piaciuto Eh, credo sia il classico, si può dire Di una storia videogioco sportiva Ok, adesso XX Maximus Mario 1 XX Non è proprio una risposta, però È un appunto che sono d'accordo con lui Mi sembra giusto Impersonalmente Non gioco ai giochi sportivi Ma non esistono solo COD, Battlefield o PS FIFA Magari si riferiva anche il mio e il nostro Va bene, sono d'accordo con te comunque E le domande del giorno sono finite Dopo la spiegazione del video Allora, il video, come potete vedere L'ho detto anche prima È su Halo Combat Evolved Anniversary Evolved Anniversary Evolved Anniversary È un scioglilingua, cazzo È un remake di Halo 1 HD Proposto per la prima volta su Xbox 360 No, su Xbox basta Epic Fail No, su PC No, su PC Epic Fail Ok Il punto è Che tanti Non compro questo gioco Perché dicono Eh ma Non ho già giocato al primo Halo Cosa mi serve Halo Online Che è lo stesso di Ritz Beh In parte hanno ragione Se l'avete già giocato Non compratelo Ma io Non avevo giocato al primo Halo E allora sono stato ancora di più spinto a comprarlo La grafica si è simile a quella di Ritz Però Si notano delle già rimiglioramenti Infatti con un tasto del joystick Puoi passare dalla vecchia grafica A quella nuova E vedere anche le differenze Perché Allora Diciamo che a Big House piace di più la nuova grafica Mentre a me Non so come mai Ma mi appassiona di più Quella vecchia Mi fa più sentire un uomo vissuto Non so Le texture Scusate Niente Le texture Si potrebbero un po' migliorare Ma Vedendo che è il primo Halo Si può dire che Beh L'hanno modificato bene Cioè Non c'è niente da dire Ok I nemici saranno sempre gli stessi Ovvero i Grunt I danetti piccoli I Jakal Nei soldati molto agili Con uno scudo al plasma I Brut Che sono Dei soldati abbastanza grossi Ma senza cervello E anche brutti E gli Elite I Generali Armata Covenant Ovvero Spartan solo che alieni Gli Spartan Per precisare Sono umani Geneticamente potenziati Con una corazza Che pesa 300 kg Niente di che Si Allora Il mio giudizio personale Del videogioco Che è la prima volta Che l'ho vista Con questo commentary Devo dire che è stata buona Si Un bel videogioco Che Soprattutto la prima missione Comincia da prenderti tanto Io ho giocato solo Ad Allorice Quindi Non è che sono Un grande fan di Halo Ma devo dire che È veramente un bel gioco Qua possiamo vedere Il cambiamento di grafica Molto più spartana Si può dire Proprio in termini di Halo Molti criticano anche L'online Che è la stessa serie Si Non proprio La grafica si può essere la stessa Le armi Sono un po' meno Ok Ora può uscire Da di tornare in stile Allo 1 Poi Non ci sono quei specie Di potenziamenti Tipo jetpack Blocco armatura Chi ha giocato lo conosce Ologramma Invisibilità E scatto È tutto Un po' più semplice Come all'inizio L'unica cosa secondo me Un po' più da cambiare È il fattore del movimento Non so Sarò anche un po' Un pignolo Si può dire Ma non so perché Secondo me Gli sviluppatori Potevano fare Qualcosa in più Però comunque Perché non comprarlo Allora La grafica È buona L'online Si sarà un po' lo stesso Ma Da solo aggiunge Sei mappe Che tirano già dentro il gioco Aggiunge un premio Un oggetto per l'avatar Un'armatura per l'avatar E un teschio per la campagna Che allungherà la campagna Non so cosa fa Si dopo viene anche poco Perché è un omaggio ai fans Si può dire Quindi Anche conveniente comprarlo Viene solo 38 euro Quindi non comprarlo Quindi perché non comprarlo Se vi piace allo Fatiamo piacerlo Bene Passiamo alla domanda del giorno Secondo voi Si sono di più impegnati Gli sviluppatori si intende Una volta a creare i videogiochi O adesso In questi ultimi anni Rispondeteci sempre Con un commento qua sotto Come fate di solito Ok Siamo riusciti a starci anche oggi Quindi come sempre Vi lasciamo il filmato E ci rivediamo Al prossimo commentary Let's kill Ok Attivate i suoi scudi energetici Bene Carica degli scudi Completa Ok signore Ora li abbassi Che testiamo la ricarica automatica Questa Adesso Anche 그런 Definite Adesso Questa Questa